ragazzi io questo video non avevo la minima voglia di farlo però mi ha costretto un mio iscritto praticamente uno mi ha ingannato lui mi ha detto mi potresti mettere vice se no non entro nel tuo clan io ho detto ok lui mi ha detto puoi fare una partita per vedere se sei forte o no io ho detto ok poi cosa faccio faccio la partita e allora intanto spalle tutti del club io lo detesto a sto qua ragazzi infatti mi dispiace io dico entrate nel mio club però no non posso mettervi né socio anziano né vice tutti i soci a parte alcuni perché mi fido di loro non ve la prendete con me è però rega non posso perciò vi consiglio di entrare nel mio nuovo club perché la cosa bene non c'è brutta è che già è la seconda volta che è successo c'è i clan i ninja uno l'ha fatto dopo l'ha fatto con i clan top ragazzi mi dispiace ma basta io mi sono proprio stufato già siamo 10 persone vabbè 9 contano anche me anche così è andato accanto comunque ragazzi e per favore entrate ragazzi io mi sono proprio arrabbiato perciò il video finisce qui per favore entrate nel mio club e al prossimo video che vi devo dire ciao